Prima del video ti ricordo che è uscito il mio nuovissimo libro Per averlo ti basterà cliccare il link qua sotto in descrizione E potrai acquistarlo anche su Amazon oppure in tutte le librerie Non hai ancora il libro? Che aspetti? Manchi solo tu! Ciao a tutti! Ai, ai, ai oh! Ecco, lo sapevo che non dovevo saltare Ciao a tutti i Roblox giocatori e bentornati in un nuovo fantastico video Ci troviamo su Roblox perché oggi... Ma perché casco all'improvviso? Me lo spiegate? Perché oggi... Ma io posso fare un intro normale? Oppure... Perché oggi dobbiamo... Ma io, cioè, veramente, me ne sto fermo Perché oggi dobbiamo andare a scuola in questa fantastica nuova scuola? Perché come vedete non è la mia lingua Mi sono trasferito in una città del Giappone o in Cina Non lo so, perdonatemi, non capisco, è cinese o giapponese? Vabbè, non sono a casa mia E oggi dobbiamo andare in una nuova scuola Ma so che sarà un'esperienza molto terrificante Quindi almeno voi lasciate un bel mi piace Avete capito questo video? Se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi Ok, andiamo di qua Dobbiamo cercare di arrivare a scuola, ragazzi Anche se sarà molto difficile Ah! Che straga che è successo? Sono aspirapolvere robot Ma che è? Ok, dobbiamo cercare di non toccare le cose Ma io non si posso credere Cioè, questi qui mi volano a caso, contro Cioè, io devo andare a scuola Ah! E ci sono dei nabbi che vanno Oh! Calmi, calmi, calmi Cioè, come faccio a schivare sto pazzo? Vieni, vieni Bravissimo, torno indietro Ok, ragazzi Cioè, io È il bello che devo Voglio andare a scuola Ma se continuiamo così Io non voglio andare più Io non ho parole C'è, c'è un nabbo che mi sta Continuando a venire addosso Di là c'è un aspirapolvere robot Ma io come faccio? Veloce, 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 veloce Ok, ci siamo Attenzione all'aspirapolvere robot Attenzione all'aspirapolvere robot Oh, mio Dio Papà Papà Ok, papà Ok, fantastico Ah! Ho toccato il tavolo Ma il tavolo è fatto di lava? Cioè, io non riesco a capire Ok, spawn point Oh, fantastico L'aspirapolvere mi ha aspirato, ragazzi Ok, da questa parte Da questa parte No, vabbè, ragazzi Cioè, è assurdo Io l'ho detto Questo sicuramente è il gioco più difficile Che io ho mai fatto in vita mia Ok, da sta parte Chi è sto pazzo con le spade? Ma chi è che mi ha ucciso? Cioè, quanti fratelli ho? Mamma mia Proviamo a passare di qua Io me ne vado, me ne vado, me ne vado La porta Non si può entrare qua Oh, mio Dio Non si passa La chiave Serve la chiave Ma porca miseria Non ci posso credere Perché questa riesce a passare? Io no Devo riuscire a prendere le chiavi Ma c'è questo pazzo No, l'aspirapolvere Vi prego Lasciatemi in pace Dove sono? Dove sono? Le chiavi? Ma cosa mi ha preso? Il comodino? Se avete visto che Avete visto che è cascato? Guardate 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 È cascata la libreria Ma addirittura la libreria Mi fa male Ok, vai, 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 vai Attenzione a sto tizio con le spade Vai, 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 vai Ok, la chiave La chiave, la chiave, la chiave Ok, presa Presa la chiave Ce l'ho Fluttua Ok, attenzione adesso A schivare sto pazzo con le spade Ce l'abbiamo Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Usala Sì, ci siamo Sì, ci siamo Alla faccia tua Stupida casa Che non sei altro Guardate come salta Ok Allora E sicuramente questo sarà stato lo step più semplice Eh, bella faccia Bella faccia Ti puoi stare Io avrei un video da fare Si è buggato tutto Attenzione alla macchina che ci investe Lo sapevo Ma da che parte devo andare Ma dov'è la scuola in sto cavolo di posto Papà, potresti accompagnarmi a scuola per favore Ma la macchina è pazza Se la macchina mi attacca Ma che è Ok, quello lì Quello lì è andato da quell'altra parte Ma non ce l'ha fatta Ma come stracacchio faccio Se la macchina mi investe Ma non hai messo la sicura Mamma mia Di qua, di qua Vamos Ok, passo di qua Passo così Ce l'ho fatta Assurdo Addirittura un treno Oh, le palle di fuoco Se ragazzi qui Qualsiasi cosa ti può uccidere Oh mio Dio Qualsiasi cosa ti può uccidere Ok, è verde qui È verde Avete visto tutti che è verde? Posso passare? Ok, passo Passo Oh mio Dio Oh mio Dio Ma che succede? Una chiave c'è lì C'è una chiave Ok, proviamo a prenderla Ma cosa ho toccato? La siepe? Se ho toccato No, da qua Mi fai ricominciare Io non ci posso credere Ragazzi Ma io vi giuro Devo andare a scuola E questo Cioè, ma che cosa sta succedendo? Ma guardate che roba Ma vedete tutte le cose Che stanno succedendo? Cioè, io non ho parole Non ho veramente parole Ok, di qua, di qua, di qua, di qua Ok, tocchiamo lo spawn point Ok Attenzione a sta macchina, eh Attenzione a sta macchina Lo sapevo Lo sapevo che veniva a rompermi le scatole Ok, riproviamoci No Adesso, 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 adesso Adesso, esploso tutto Fantastico Riproviamoci Ce la farò a prendere sta chiave Ah, ma che cavolo Ah, ho capito Non devo andare lì dentro Devo passare di qua Sì, vabbè Mi ha investito Fantastico Sì, vabbè Poco difficile, ragazzi, eh Cioè, questa è la mappa veramente più difficile della mia vita Ok, adesso, 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 di qua E, 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 e Piglala, piglala Ma perché è così difficile la vita È mia quella chiave È mia quella chiave Sì, vai, 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 vai È buono, è buono, è buono È mia sta chiave È mia, 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 mia Vamos No Ma non poteva passare di qua Ok, adesso, 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 adesso Salta No Cosa mi ha ucciso Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho La chiave ce l'ho, la chiave ce l'ho Spero che sia per questo Ho la chiave Top Sì Non è questa? Sì, è questa Top Ci siamo Ok, cos'è? Robot aspirapolvere, anche qua Attenzione al robot aspirapolvere Che cavolo è stato? Un ninja C'è un ninja mi ha attaccato C'è, io non ci posso credere Ok, proviamo ad andare qua Ma cosa? La polvere mi ha fatto fuori C'è, veramente, io non ho parole Ah, c'è, guardate, i ninja I ladri che entrano dalla finestra Ma cosa devo fare io qua? C'è un coltello Posso prenderlo? Ma cosa mi ha ucciso? Cosa? Ragazzi ma sta mappa è illegale Proviamo a passare di qua Io non so che cavolo devo fare Veramente Sì, vabbè, ciao Ciao proprio Proviamo a far così Ma cosa? Come faccio? Ok, qui Qui così Qui così Seguo lui eh Io ti seguo fratello Fratello ti seguo Ok, adesso 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 Troppo tardi Ok, ho capito come fare però eh Grazie al mio amico Ho capito Capito tantissimo Guarda Ok 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 Tutto di qua Non può prendermi Non può prendermi qua Vamos No Per poco Cioè ragazzi è illegale sta mappa Sta mappa è illegale Ma si potrà mettere un robot aspirapolvere assassino in un negozio? Cioè io boh Ok vai 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 Adesso Cosa ce l'avevo fatta? Ci sono Ci sono Non può prendermi L'ho presa Vai adesso 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 O abbiamo la chiave eh Abbiamo la chiave E sono morto E sono morto E sono morto con la chiave Non ci posso credere dovevo andare lì Non ci posso credere Ok calma 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 Sì Vabbè cos'è Ma avete visto? No vabbè dai Vabbè Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci abbiamo la chiave Ci abbiamo la chiave Ok Ok Sì Ci siamo Cosa Cosa mi ha preso? Cosa No io esco Io me ne voglio andare di qui No basta io lo schippo Eh io lo schippo ragazzi Basta Se ne può più Skip 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 Via 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 È andato a buon fine E quindi? Non mi sembra schippato Non mi sembra schippato lo stage Ok Posso andare direttamente al 5 Ma che cosa Ma che cosa Si usciva da qui Ragazzi Ma di che cosa Stiamo parlando Si passa da qua? Cos'è sta roba? Cos'è? Posso passare? È chiusa E dove cavolo passo? Ok Di qua? E dove devo andare? Mamma mia C'è tutto questo Per arrivare a scuola Ogni giorno Io devo fare questa strada Per arrivare a scuola C'è anche l'esercito C'è anche l'esercito Wow E qui? Andiamo Da che parte? Ok Da questa parte? Ovviamente no Proviamo ad attraversare la strada Vediamo Ma cos'è sto coso? Oh mio dio Un caro No vabbè No Ne ho visti di ogni oggi Eh Ah Che cosa è stato? C'è cascato un palo della luce No vabbè ragazzi Dai Veramente Io oggi non voglio più andare a scuola Ho cambiato idea Ok Quindi qui devo fare attenzione Altrimenti casca sto coso Casca sto coso Ma come ho fatto a prendermi? Ma che cosa? Ah ma non devo passare di Dal marciapiede Ma questo è Steve Che cavolo fa? Sì vabbè Steve Sopra una mongolfiera Ma attacca Steve Cioè io veramente Chi ha creato questo gioco Veramente Io spero Con tutto il cuore Che ogni giorno Li facciano fare queste mappe Veramente Cioè io non ho parole Io devo passare là Vedete? Devo aspettare Che sto cane gigante Se ne vada Per passare di qua Fantastico Ok ok Qui 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 Ok ho capito Ho capito Ho capito come fare Ho capito come fare Ok da sta parte Poi giro Torno qua Sì vabbè Poco difficile ragazzi eh Poco difficile Cavolo 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 Di qua Ok ci siamo Ci siamo Ci siamo Vai 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 Di qua Ok ci sono Siamo operativi La chiave è lì Piglia la chiave Piglia la chiave Ce l'hai Ok L'ho presa Vai Togliti Ma cosa Cosa mi ha ucciso Ma tu sei fuori di testa Roblox Ma chi mi ha fatto fare Di andare a scuola Oggi Cioè guardate Steve lì Guardate Steve Se io non ci posso credere No vabbè No vabbè Me ne voglio andare Di qui Se questo torna indietro Cioè addirittura bisogna tornare indietro No ti prego No Ok chiave bella eh Ok chiave bella Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Fatti acchiappare Sta tornando Sto essere schifuso Ok Ok da sta parte Da sta parte Da sta parte Di qua Attenzione 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 Ok Ok togliti 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 Torna indietro Bravissimo Fuori dalle scatole proprio Ci siamo ragazzi Dai Dai che ci siamo Torna indietro Cioè sto gioco È per pazzi Scatenati Ve lo dico io Ok Ci siamo Da sta parte Ci siamo ragazzi Ci siamo Attraversiamo Strisce pedonali Da che parte Ok di qua Bisogna tornare indietro Bisogna Bisogna andare lì Ok di qua Tutto dritto Spero Ok ci sono Aperta la porta Sì Sì Aperta Apri sta porta Ok Attenzione agli elicotteri Oh mio dio Attenzione a sti elicotteri Da che parte Ok di qua Di qua Di qua Di qua Di qua Ci ho fatta Non ci posso credere mai nella vita Mai nella vita Devo andare qua sopra Andiamo qua sopra Ok Tutta sta fatica per andare a scuola Ok Che è sto coso I bombardamenti Aiuta Aiuta Sì vabbè Ciao proprio C'è qua gli elicotteri Che sparano Io voglio andare solo a far matematica Ok Ok Che è I bombardamenti Dai 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 Vai 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 Che è sto coso Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Attenzione 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 Vai 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 Via 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 Vai Oh mio dio Oh mio dio No Dammi lo spawn point Dammi lo spawn Ok top Ce l'abbiamo fatta quindi Siamo a scuola La scuola ragazzi Non ci credo Non ci credo Siamo arrivati a scuola Siamo a forse Fantastico C'è Assassin's Creed Lì davanti Quindi direi che non è una buona Idea Niente ragazzi Basta Non ne posso più Non ne posso più È impossibile arrivare a scuola Fatemi sapere se volete Il secondo episodio Perché dobbiamo assolutamente Arrivare a scuola Altrimenti Mi metteranno una nota Da me è tutto E ci vediamo presto Alla prossima Bappa pazza di Roblox Ciao Ciao